Maxi sequestro in località Casamona, nel Val d'Arno, a Retino. I carabinieri forestali hanno messo i sigilli ad alcune strutture in un agriturismo. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbero state edificate in una zona boscosa senza le autorizzazioni necessarie. Il sequestro è stato eseguito nei giorni scorsi, dopo il decreto risposto il 21 ottobre dal GIP Pier Giorgio Ponticelli, che ha accolto le richieste avanzate dal PM Angela Masiello. Sono stati poi militari della stazione Carabinieri forestale di Loro-Ciuffenna a procedere al sequestro preventivo di numerosi fabbricati di recente costruzione e ancora in via di ultimazione, tra cui un'abitazione, un centro benessere e un ricovero per cavalli. La realizzazione dei fabbricati è stata collocata tra il 2014 e il 2017. Nel complesso si tratta di uno dei sequestri più consistenti mai eseguiti nella provincia aretina, a carico di una stessa azienda agrituristica. In base agli accertamenti svolti dai forestali e dalla procura, con l'ausilio di tecnici e sofisticate verifiche realizzate col confronto di riprese aeree effettuate con un drone, è stato possibile accertare che le opere edilizie erano state realizzate in un'area boscata, quindi sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico in assenza di autorizzazioni. Inoltre la realizzazione dei fabbricati abusivi ha comportato la soppressione di circa 7.000 m2 di habitat naturale. Il titolare dell'azienda è quindi indagato sia per i presunti abusi ed edizi emersi, sia per la deturpazione paesaggistica di un sito di pregio naturalistico.